Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come aggiornare tutti i driver della tua scheda video ovviamente non avrai più problemi riguardo al crash direct x oppure quando andrai a giocare non ti usciranno quelle schede perché tu hai sempre la scheda video aggiornata io ovviamente non ho mai problemi come il crash o problemi direct x oppure altri problemi che quando vado a giocare a sparare mi crasha il gioco non ho problemi questi problemi ce li hanno soprattutto le persone che se ne fregano di aggiornare i driver della propria scheda video installano una scheda video e non installano altre applicazioni per dare supporto a questa scheda video quindi in questo caso oggi vi mostrerò 3-4 programmi per aiutare la tua scheda video a stare sempre ma sempre aggiornata quindi per quelli che hanno invidia c'è il programma geforce experience che se lo scarichi lo installi poi riavvia il tuo sistema operativo è facilissimo da scaricare quindi scarica geforce experience eccolo qua poi ci clicchi sopra è un setup e lo installi una volta installato ti uscirà geforce experience qua dentro ed eccolo qua ovviamente per aggiornare i tuoi driver tu basta che clicchi su driver fa circa aggiornamenti io ho aggiornato la mia scheda il 10 di ottobre e ogni tanto escono aggiornamenti ogni settimana ogni due settimane oppure ogni tre settimane ogni tre settimane oppure ogni mese quindi per quelli che hanno AMD ovviamente non posso farvi vedere il programma però AMD è più attrezzato di cforce experience ovviamente non solo aggiorni la tua scheda video su questo software AMD application questa applicazione Adrenaline Edition tu lo scarichi, lo installi e da lì in poi potrai aggiornare i tuoi driver come puoi vedere puoi fare moltissime modifiche puoi anche registrare, fare le live puoi vedere le performance del tuo pc e aggiornare anche la tua scheda e non solo aggiorni la tua scheda, aggiorni pure il tuo processore poi un altro programma che vi consiglio è Driver Easy ovviamente vi ho lasciato tutti questi link in descrizione qui c'è quella gratuita e quella a pagamento ok? quindi per quelli che la vogliono gratuita questa applicazione la scaricate, la installate e potete scaricare e installare questi driver manualmente quindi fate una scansione per vedere quanti aggiornamenti dovete fare io per esempio vado a prendere questo driver qua realtech hardware support application faccio aggiorna crea manualmente installa manualmente mi uscirà così questa cartella clicco sul percorso file di questa cartella faccio copia quindi copieremo questi due file qua dentro e non mi resta che andare su gestione dispositivi quindi faremo tutto manualmente poi io vado a trovare il mio dispositivo in gestione dispositivi vado su componenti software ed eccolo qua realtech hardware support application ci clicco sopra aggiorna driver cerca i driver nel computer incollo questo faccio avanti i driver migliori per il tuo dispositivo sono già installati perché li ho installati prima quindi se in questo caso non volete scaricare geforce experience oppure md usate driver easy uscirà così un aggiornamento da fare e fate questo stesso metodo che ho fatto adesso quindi per esempio se c'è una scheda video qua dentro fate aggiorna crea manualmente installa manualmente uscirà così la cartella ci clicco sopra faccio copia e vado a trovare la mia scheda video queste sono le mie schede video una sola ne ho aggiorna driver cerco il driver nel computer e faccio incollo e incollo quella cartella e la metto qua dentro faccio avanti e la installo ovviamente non è un aggiornamento per la mia scheda video questa era solo per farvi vedere come si faceva quindi se questo video ti è stato utilissimo su come aggiornare i driver della tua scheda video con nvidia o md oppure driver easy iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao